psicologico, forense, questo la dice lunga, e soprattutto per la psicologia del marketing. Ad oggi se vogliamo selezionare un prodotto, basta che ci basiamo sulle amicizie che abbiamo sul nostro social network, sul nostro profilo. Vediamo le amicizie, vediamo i like che quelle persone che noi conosciamo hanno, automaticamente si riesce a capire un attimino ciò che vogliono queste persone, ok? Le 5 tipologie di utenti social, le aggruppiamo in macro aree. Innanzitutto parliamo di social fan, social fan rappresentano il 33% della popolazione Facebook, sono i compagnoni, ok? Cioè quelle persone che frequentano Facebook soltanto perché amano trascorrere il tempo in compagnia per socializzare. Sono quelli che utilizzano molto spesso i giochi online e ci mandano costantemente la richiesta di partecipazione e i giochi online. Evitiamolo, evitiamolo. Se volete perdere amicizia questo è il modo migliore per perdere. Oltate in un'unica. Oltate in un'unica. Troppo meglio accendenti. I practical rappresentano il 17% della popolazione dei social. Rientrano in questa tipologia i pragmatici. Utilizzano i social soltanto a fini pratici. E nel rapporto con il brand, quindi nel momento in cui si relazionano con le aziende che a loro piacciono, si aspettano delle iniziative concrete e di informazioni autentiche che possono sempre utilizzare a loro beneficio. I brand peer, questa categoria, cerca sempre di parlare ad ogni modo, quindi di interloquire a livello paritetico con chiunque. Non si sentono meno di nessuno ma non si sentono neanche superiori a nessuno. Ovviamente cercano di parlare in maniera paritetica con i brand della pubblica amministrazione. Vogliono e si aspettano una relazione di collaborazione. Essi costituiscono il 21% degli utenti social. Per parlare gli emotional. Sono gli utenti mossi dalle emozioni e rappresentano, questi sono i più semplici da catturare, e rappresentano il 14% degli utenti social. Essi condividono frasi e foto particolarmente emotive, quasi fruggetti. Adorano particolarmente le foto dei cuccioli e ciò che è appunto emotivo. Qua dentro c'è una grossa parte del 14% delle misate. Arriviamo agli egomaniacchi. Questi rappresentano il 15% degli utenti molto ecocentrici. Sono coloro che vogliono emergere ad ogni costo. Questi giusto per arrivare subito al solo. Sono quelli che nel momento in cui postate hanno subito qualcosa da dire. Perché vogliono essere loro leader anche della nostra comunicazione e della nostra comunicazione. Sono quelle persone che normalmente vorresti nascondere il commento ma non lo fai per l'educazione. Nel momento in cui postate qualcosa in un'immagine piuttosto che un commento, piuttosto che un video, sono quelli che vogliono diventare proprietari. Quindi normalmente lo commentano per prima. E nel rapporto con i brand questi vorrebbero interagire per migliorare addirittura il brand a loro favore. Quindi parliamo di una categoria un po' particolare. Voglio parlare un attimino, non so se qualcuno di voi l'ha detto, negli ultimi anni è stato motivo di discussione in molti giornali, sono notizie a passe ovviamente su tutti i social, parliamo di contagio emotivo. È una cosa bella per quanto riguarda il marketing, pericolosissima, per quanto riguarda la gestione delle emozioni di ognuno. Ve lo leggo. Nel gennaio del 2012, che si sono andati reali, furono condotti due test tra i utenti di Facebook che rappresentano il più ampio studio sul campo della storia del mondo. Fu fatta chiarezza su un fatto che è poco sconvolgente. Ciò che gli altri postano su Facebook è che noi visualizziamo in bacheca che vada bene che è tutto pilotato, ci influenzano emotivamente, tanto da spingerci nel periodo successivo a pubblicare a nostra volta contenuti sulla stessa lunghezza londa. Ragazzi questo è reale. L'obiettivo era appunto capire se l'esposizione a manifestazioni verbali affettive possa condurre ad espressioni verbali simili, creando appunto contagio emotivo. Dai 689.000 account, ed è un dato pazzesco, analizzati è uscito che manipolando le parole dei post in modo da renderle positive o negativo a seconda dell'esperimento condotto, si influenzavano positivamente o negativamente gli utenti che visualizzavano dei post confermando la pericolosità della manipolazione delle emozioni. E fin qua è uno studio che ci ha dimostrato ciò che in molti pensavano. Riferite magari a voi stessi, nel momento in cui leggete nel vostro profilo social cronaca nera, tanti adorano postare o condividere un post di cronaca nera, nel bambino che è morto, piuttosto che... qual è l'emozione che ti dà? È tristezza. Questo è il contagio emotivo. Nel momento in cui postiamo, non so, un cagnolino che si schianta contro un vetro, no, perché sta giocando con un cartino, è molto divertente della cronaca nera. Sicuramente ci dà un'emozione completamente diversa. Questo è il contagio emotivo. Ok? Semplicemente osservandoli, posso non c'è bisogno di aprirli o cliccare a lei, semplicemente osservandoli. Vuole leggere due tre parole? Ciò che ha lasciato perplesso il mondo scientifico è che si è scoperto per puro caso con questo esperimento che l'algoritmo di Facebook, l'algoritmo è il codice sorgente con il quale è stato scritto Facebook, è in grado di manipolare le nostre emozioni e di condizionarci sulle scelte e soprattutto sul nostro stato d'animo. Quindi, nel momento in cui una multinazionale volesse, chiaramente a scopo di lungo, modificare l'emozione di molte persone, può farlo attraverso Facebook. Bene, io lascio la parola a Barbara perché entriamo nel vivo dei social network, quindi vi spiegherò un attimino appunto come utilizzare il social network nel migliore dei modi, quindi cercando di catturare l'attenzione, cercando di aumentare i like dei vostri profili aziendali e personali con delle tecniche. Vi vorrei chiedere una cosa prima, se è possibile, che mi sono dimenticato di ora all'inizio. All'interno della cartellina, provate un questionario, ovviamente per il marketing per noi è molto importante, è una valutazione che ci date per questo intervento, quindi vi pregherei alla fine di compilare questo questionario nel modo più suggerito possibile per aver sentito di riuscire a montare il meglio la nostra comunicazione. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie Massimo. Mi vorrei vedere la condizione della contare i piedi, perché veramente erano dei spot informativi e interessanti, che potrebbero essere utili anche nella comunicazione quotidiana, quindi sono cose che magari non hanno dato per scontato, invece sono cose che bisogna veramente farci caso, ci può essere utile anche per tutte le nostre vicende. Allora, adesso diamo la parola a un caso pratico, Barbara Fassati, è una social branding, dico bene? Sì, quindi lei studia un po' la reputazione del brand in ambito online, come sui social network, proprio in questo progetto, quindi ci parlerà di questo caso concreto, ma naturalmente il caso concreto che verrà esposto può essere benissimo trasferrato con altre attività, anche altre situazioni, perché sento bene che viene promosso. Prego Barbara. Buongiorno a tutti. Grazie. 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 Noi di Impresa Professional Web ci crediamo moltissimo. Siamo sempre alla ricerca di nuove storie per cercare di capire come far funzionare al meglio questo grande strumento. Naturalmente parlando di strutture ricettive, quest'anno dobbiamo parlare del Four Season, che è un hotel che voi tutti conoscerete, che ha avuto moltissimi riconoscimenti perché ha lavorato molto bene nei social network. Diciamo che ci sono molti casi di successo sia nel settore alberghiero, ma anche in tantissime altre attività dove c'è la vendita di un prodotto o la promozione di un servizio. Quindi è importante utilizzare al meglio questo strumento per fidelizzare il cliente e per poter promuovere il proprio brand e la propria reputazione online. Io ho tirato giù i miei soliti dieci punti perché ho in intervento, sono sempre questi dieci comandamenti molto veloci, molto impattanti per cercare di raggiungere un obiettivo sulla vostra pagina social. Quante pagine personali ci sono? Quanti profili? Quanti siete? Tutti. Ci gestisce pagine? Insomma abbastanza. Bene, allora partiamo con il primo punto. La prima regola è prima di avviare un qualsiasi progetto di social media marketing bisogna essere convinti e dobbiamo sapere che cosa vogliamo fare. Quindi bisogna scegliere le strategie e le persone che ci affiancheranno in questo progetto e che sponsorizzeranno la nostra immagine sulla nostra pagina e quindi su web, dove tutti potranno vederci. Perché un conto è il profilo personale dove noi ci possiamo criptare, ci possiamo chiudere, ci possiamo tutelare, ma la pagina fan può essere vista da chiunque. Regola numero 2. I commenti. Questa è una nota dolente. Allora, ai commenti positivi siamo tutti contenti, rispondiamo, ci amiamo tutti. Bene. Ai commenti negativi entriamo tutti in crisi. Poi per quanto riguarda le strutture ricettive dovete rispondere come rispondete su TripAdvisor, no? Al commento negativo, spiegate. Per quanto riguarda altre attività dove vengono magari criticati i nostri prodotti o il nostro modo di fare, bisogna rispondere garbatamente e cercare di trascinare e cercare di convincere chi è che ha parlato male di noi nell'altro momento. Insomma, rendere questo rischio negativo positivo. Prego la numero 3. Ultimamente, Guadalupe si rivolgeva ai propri clienti dando del lei. Questo non va bene perché Facebook nasce per essere uno strumento amichevole, per cercare le amicizie. E quindi bisogna parlare in maniera amichevole perché lei porta ad un allontanamento, ad un distacco. E quindi non creiamo la famosa empatia di cui parlavamo prima. E quindi diminuiamo i like e diminuiamo l'interesse. Regola numero 4. Twitter ci dà la possibilità, per chi usa Twitter, di ricerca. Ad esempio, parliamo di un ristorante o di una struttura ricettiva. Cercare il luogo dove voi siete. Ci sono persone che chiedono informazioni, cosa si fa qui, cosa si fa là, cioè questo, cioè... Se noi riusciamo a rispondere garbatamente, a dare dei suggerimenti, anche a chi non è nostro cliente o non è nostro fan, oggi non è nostro cliente, un domani potrebbe diventarlo, potrebbe iniziare a seguirci e sfruttare quello che noi abbiamo da offrire. Regola numero 5. Importante è, nell'utilizzare le pagine social, continuamente postare delle cose con lo stesso linguaggio. Non è facile, ma se noi riusciamo a coinvolgere i nostri collaboratori e utilizzare un unico linguaggio mapario, perché ognuno di noi è diverso, questo potrebbe essere un elemento positivo per la nostra pagina. La regola numero 6. I famosi insights. Cioè, noi dobbiamo monitorare e comunque tracciare tutte le visite che arrivano nella nostra pagina, perché dobbiamo capire se i nostri fans sono affascinati da quello che postiamo, se gradiscono quello che noi stiamo proponendo ed offrendo, perché a volte può capitare che noi promuoviamo delle cose ma i nostri fans non accettano quello che noi abbiamo da offrire. E quindi seguire i dati della nostra pagina e vedere il risultato che ottiene è importante per poter gestire al meglio la nostra comunicazione. Un'altra regola che secondo me è molto importante è questa, la numero 7. Cioè, non rimanere per intere settimane senza postare, senza parlare. Cioè, il buco temporale nella pagina crea un senso sciatto di abbandono, come anche non postare continuamente, perché i nostri fans potrebbero indispettirsi da questo continuo postare. Questo vale anche per un profilo personale. Cioè, avrete sicuramente tra gli amici, quelle persone che li possano ricondividere in continuazione, tanto da dire, oddio, io non ho più voglia di sentire e di vedere quello che fa, no? C'è un tasto che dice disattiviamo le notifiche. Però cerchiamo di evitare di essere convulsi. Quindi, di norma, diciamo che per una pagina fan sarebbe minimo tre posti a settimana, per un massimo di dieci posti a settimana. Questo è inteso per le strutture ricettive, hotel, ristoranti. Poi per altre attività, ad esempio attività di moda, magari il posto quotidiano sarebbe indispensabile. Regola numero 8. Se nelle vostre vicinanze ci sono dei locali notturni, dei musei, delle altre strutture che possono essere collegate alla vostra attività, sarebbe importante la ricondivisione laterale, cioè ricondividere quello che loro postano, in modo tale che voi alimentate la vostra pagina con delle informazioni utili per il cliente e di conseguenza ricreate questa condivisione con i vostri colleghi, che sicuramente ricondivideranno i vostri post. E quindi questo è importante per far crescere la pagina. Regola numero 9. I contest, i concorsi, sì, sono difficili da gestire online, ma quando fatti bene portano dei grandi risultati. A volte si creano le situazioni virali, le foto, i video, i videomessaggi, le immagini con dei consigli utili. Queste sono tutte informazioni che all'utente piace, piace e ricondivide. E quando un vostro fan ricondivide nella propria bacheca quello che avete postato, il risultato è ok, vuol dire che questa cosa piace e che io sono orgoglioso di ricondividere quello che gli altri hanno fatto. Ultima regola, numero 10, ed è secondo me la più importante, è testare e controllare il momento del post o del tweet che sia, perché è importante il giorno e l'ora. Nel caso di strutture ricettive, il venerdì pomeriggio è il giorno di punta, per seguire anche nel weekend, ma ci sono altre attività che ad esempio hanno giorni più favorevoli, come il mercoledì e il giovedì se parliamo di centri commerciali, oppure di lunedì se parliamo di shopping online. Quindi l'importante è capire e controllare il feedback delle nostre visite, perché è inutile postare in un orario dove i nostri fan non ci guarderanno mai, quindi è tempo perso, il post cammina e non è servito a niente. Noi come Impressa Professional Web crediamo molto nell'uso dei social network, però vi diciamo anche, è vero che dovete attestare il vostro personale, dovete essere voi a gestire la vostra pagina o i vostri social network, ma è importante farsi affiancare a dei professionisti che possano aiutarvi a gestire al meglio questa cosa, perché si potrebbero creare delle situazioni non troppo positive, perché è vero che i social network funzionano, ma se vengono gestiti male il ritorno potrebbe essere negativo e quindi è meglio lo rischiare, perché rischiate della vostra attività. Noi abbiamo fatto un'ultima esperienza oggi, perché si parlava di strutture ricettive, abbiamo un ristorante che stiamo seguendo da pochi mesi, il ristorante Parione di Firenze, e l'abbiamo chiamato un ristorante da VIP, perché questo ristorante è frequentato da personaggi famosi, conosciuti, e noi quando abbiamo cominciato a seguirlo fanno dei piatti molto particolari, una cucina toscana, classica cucina toscana, di albassi da Ponte Vente, quindi un'atmosfera molto particolare, e abbiamo visto che c'era molta ricondivisione tra le persone che andavano a mangiare, cioè si volevano proprio far fotografare in quel posto, ma la vera esplosione di questa pagina è stata quando abbiamo pensato di fare un album fotografico con i VIP che andavano a mangiare in questo ristorante, ma VIP, 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 perché Kate Moss, Vasco Rossi, molti attori, e da lì c'è stata un'impernata vertiginosa della pagina, e oggi abbiamo naturale, organico, dai 70 ai 100 fan al giorno che avventano, quindi questo per dire che ogni attività, ogni pagina, ogni prodotto social, deve trovare il punto di forza della propria attività e spingere tutto lì. Io, concludo, finisco, a dare un'impernata dall'apertura. Io non c'erano da chiedere, non so, sono grafici pubblicitari, il prof mi ha detto che sono un po' timidi, no? Mi metto gli occhiali perché la soccata è bella, c'è qualcuno un po' più... un'altra domanda niente speriamo che pensare come la malta la personalità gratis sicuramente io in periodo di crisi dove si sono fermate un po' le stavate che stavano troppo quindi questo avvento io mi sono trovata a dire madonna io sono un grafico specificario ma arti, cataloghi mi sono dovuta inventare e quindi mi sono un po' buttata su questo stile un po' più su guerra ed è stata la mia salvezza perché riuscivo a mettere il mio gusto grafico in un mondo di tecnici da mazzucchetti ci sono tutti grafici questo grafico, questo tecnico che ti segue per fare questo sito ma loro pensano da tecnici quindi si funziona tutto i siti sono visitati tutte le cose tecnologiche dietro ma è necessario una bella cosa perché il sito deve essere bello ma deve funzionare quindi sono due cose che insieme fanno successo sicuramente una continua ricerca ci deve essere perché oggi se ci mettiamo un altro punto di vista noi possiamo viaggiare possiamo avere quello che fanno i nostri colleghi a parigi a New York a Londra noi siamo facilitati una volta bisognava viaggiare bisognava incontrarsi oggi anche la casa possiamo seguire le tendenze è chiaro cioè oggi secondo il mio punto di vista un organico pubblicitario oggi può può metterci qualcosa in più metterci qualcosa in più ed è quel valore aggiunto che fa la differenza perché io vedo quando posto un'immagine rielaborata fatta ad hoc per quel prodotto fatta con un occhio critico di un grafico i risultati sono diversi di una foto pubblicata da là sono proprio diversi noi lo vediamo dai dati ed è questo che è fondamentale intanto noi dobbiamo raggiungere il consumatore il nostro obiettivo è quello quindi ok per tutti questi grafici pubblicitari poi anche come diceva Massimo una buona tattica una buona foto può aiutare a comunicare l'infatia quindi quando questo è emozionante sul gestivo ma è una cosa praticamente fatta bene la fotografia scattata in un certo modo quindi secondo me è un componente importantissimo sul pacchetto di formazione volevo fare una domanda se posso questo è questo è questo è questo è questo è voglio farei una domanda voglio farei una domanda ai ragazzi se quanti di voi mi vorranno rispondere spero qualcuno facciamo di tutti voi assolutamente nel vostro profilo personale quanti di voi stanno già inserendo adesso dei componenti grafici o piccoli lavori che state facendo o idee creative per far vedere a chi vi segue cosa state facendo e chi si se vengono se so bene non manno di niente o no se no instagram che lo si no instagram instagram tipo ritornando al discorso che faceva se rari vedo alcune volte una foto semplice scattata così rari c'ha più like un lavoro ben lavorato non ho più di tutto un lavoro perché può succedere questa diciamo perché passate emozioni non modificate la foto se è grande il concetto del foto la foto è un'emozione non è un'emozione non è un'emozione non è un paesaggio non è un'emozione non è un momento particolare se tu la modifichi ti devi in emozione quindi ecco questo è un'emozione anche perché chi ti sta seguendo non sono soltanto i tuoi amici ma ci potrebbero essere delle aziende che stanno già rendendo considerazione dal punto di vista di immagini perché magari con quello che il tuo rifatto è che attuale non è funzionato non è un'emozione molto importante perché le notano la sensibilità più alta ma non è un'emozione più alta anche in caso io a volte porto dei disegni che faccio i commenti o li lascio per me non li lascio così quanti mi hanno aspettato la sensibilità quando mi hai in città di me mi hanno in grado di tempo ma sono un po' 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 la differenza che la comunicazione diceva il fatto che non sono regole o eseguire un percorso ma hai detto che con il percorso come fai le prove fai le test cioè vedi il disegno è difficile mostrare come se si tratta una foto lo si fa lo stesso è difficile con le sensazioni che tu hai trovato in cui realizzare questo disegno ci vedi e mi ricordo sincero curiosità grazie grazie sull'azzo grazie 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 vi invito a prepararvi a prepararvi altre domande cerchiamo di poter capire tutti i nostri dubbi e farci dare delle risposte esaustive allora continuiamo questo discorso continuiamo il nostro percorso di questa mattinata lo continuiamo con l'autoressa Federica Scalani lei anche lei è responsabile di strategie web del progetto in questa professional web anche lei è del gruppo SIS e lei è un po' il referente di Google ecco questo grande motore di ricerca che utilizziamo oramai quotidianamente per qualsiasi cosa qualsiasi dubbio che abbiamo oramai c'è Google nemmeno una madre, un padre, un figlio, una sorella quindi Google ha sostituito un po' tutto e quindi anche questo oramai è diventato una cosa così da conoscere e da sapere utilizzare al meglio per promuovere, per renderci un po' visibili quindi nel mondo del web ma è il nostro mercato globale su cui cerchiamo tutti di andare prego Federica ciao a tutti mi occupo quotidianamente di strategie di web marketing per i nostri clienti e soprattutto di pubblicità Google e di promozione sul web abbiamo visto con l'intervento di Massimo e di Barbara come dobbiamo comunicare con i nostri clienti le tecniche più efficaci andare sui social, essere mobile quindi abbiamo visto tutto il nostro quadro che ci circonda però dobbiamo andare a fare un passo molto importante che è quello di andare ad acquisire come andare verso i nostri clienti quindi come andiamo in questo mondo web in questo mondo di utenti molto informati che vogliono una comunicazione quasi personalizzata come possiamo andargli a ricercare e farli diventare da contatti potenziali a dei nuovi clienti per la nostra azienda, per le nostre attività quotidiane e prima di iniziare l'argomento vi voglio far vedere anche io questo video che è stato i Micromoment sono un argomento attualissimo e appunto Google ha realizzato il video che andiamo adesso a vedere per la nostra azienda Grazie a tutti. 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 di prezzo, quindi sto ricercando il miglior prezzo e le migliori opportunità tipo spese di spedizione gratuite oppure assistenza per più di 5 anni e così via. Quindi attenzione a capire cosa l'utente sta ricercando, noi gli mandiamo un messaggio che non è allineato con il suo bisogno. E per essere vincenti appunto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere presenti, quindi essere sul web, avere il sito, avere il blog, avere la pagina Facebook, dobbiamo esserci, dobbiamo essere utili, come vi ho detto non dobbiamo dare delle informazioni non significative, dobbiamo dare la soluzione al problema o perlomeno dare tutte le informazioni in grado di soddisfare un determinato bisogno. Altra importanza è essere veloci, veloci cosa significa? Immediatezza dell'informazione, come è capitato a me, gli orari di apertura di un locale oppure un'altra caratteristica importante è la velocità dei vostri siti, delle vostre pagine. È inutile, visto che come abbiamo analizzato, tutti siamo e navigliamo da mobile, la velocità è un elemento indispensabile per fare la differenza. Immagini, immagini belle, però ovviamente con dei requisiti tecnici che fanno in modo che il sito si carichi velocemente, altrimenti perdiamo l'utente perché con la velocità che abbiamo, con le ricerche da mobile o comunque da situazioni sempre molto dinamiche, con un sito che attende il tempo di caricamento che supera i 3 secondi abbiamo fallito. Probabilmente l'utente sta ricercando un altro competitor. Vi faccio anche questo esempio in merito ai momenti e qui è importante capire il contesto e le varie situazioni. Allora, se Francesca, ragazza di 26 anni, si trova di sabato sera alle 9 a ricercare, utilizzando ovviamente Google, pizza napoletana, dobbiamo capire la situazione in cui si trova una ragazza molto giovane che alle 9 di sera ricerca pizzeria napoletana. Cosa significa questo? Che probabilmente sta ricercando la pizzeria più vicina per andare a mangiare una pizza ora sola con gli amici. La stessa ricerca, fatta da Maria, alle 4 del pomeriggio, 40 anni, madre di due bambini, probabilmente ha un altro significato. Utilizza sempre la parola pizzeria napoletana, pizza napoletana, ma probabilmente il suo bisogno, la sua necessità è trovare una ricetta per fare una pizza napoletana a casa per i propri figli e la propria famiglia. Quindi massima attenzione al contesto, al fatto di essere utili, perché se io a Maria fornisco un messaggio di dai vieni nella pizzeria più vicina a pizza 10 euro, non ha nessun effetto. E alla fine l'importante è unire compito. Che cosa significa? Che siccome l'utente naviga principalmente da mobile, l'abbiamo visto, però usa anche tanti altri device, quindi significa che va a casa, questo riguarda anche nelle fasi di ricerca di informazioni, di acquisto, si consulta con la propria famiglia, con il suo socio, eccetera. E quindi piuttosto di acquistare da smartphone, va ad acquistare da desktop. Quindi massima attenzione anche perché qui da desktop probabilmente ci sono necessari degli accorgimenti più specifici. L'importante è, quel messaggio che vi voglio trasmetterà è analizzare ogni singola attività che fa l'utente durante la giornata. Adesso passiamo a questo nuovo concetto dell'inbound marketing, che è appunto l'evoluzione del concetto di marketing. Cosa significa? È un termine attualissimo e appunto significa creare e condividere contenuti con il mondo. Abbiamo visto con Barbara che il social, la Facebook in modo particolare ci fornisce, è questo grande strumento che ci permette appunto di condividere questi contenuti, ma attenzione alla qualità dei contenuti, la qualità delle informazioni che diamo. Ricordatevi che l'utente che abbiamo davanti è un utente molto molto qualificato, molto informato, che vuole qualcosa in più per diventare il nostro cliente e per catturare la propria attenzione. Quindi appunto creando contenuti, pensati, specificatamente, non abbiamo la massa, perché con la massa non avremo sicuramente risultati. Andiamo a rispondere ai desideri dei tuoi clienti, potrai catturare l'interesse anche di chi non ti conosce ancora. Questa è una massima attenzione. Quando abbiamo parlato prima della condivisione su Facebook, se un amico ha condiviso oppure se su una pagina che io sto seguendo hanno impostato un argomento molto interessante, io lo condivido e lo vado appunto a far visualizzare sulla mia pagina. Quindi mi raccomando, massima qualità dei contenuti. Andiamo appunto a catturare i potenziali clienti che trovano i tuoi contenuti di qualità. Sarai interessati a leggere e a tornare nel tuo sito, nel tempo, nella tua pagina. Quindi mi raccomando, scrivete, ma scrivete, condividete argomenti di qualità. Ecco, l'inbound marketing, questa è una slide tecnica però che racchiude tutto il concetto, è appunto, si legge in questo modo, in alto sono indicate le quattro passi del marketing, quindi attirare, convertire, chiudere e deliziare. Questo è un altro termine molto particolare che nel marketing, il fatto del deliziare non esisteva prima. E appunto sono tutte fasi che il marketing deve seguire per ottenere dei visitatori, o dei potenziali contatti, o che diventeranno sicuramente dei nuovi clienti. Sotto, in base ad ogni fase, corrisponde gli strumenti a disposizione che abbiamo, che il marketing, l'area marketing di ogni attività dovrebbe utilizzare per completare queste fasi. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio quando nella fase 1 attirare, e questo è, diciamo, l'attività più importante. Dobbiamo andare ad attirare i visitatori realmente interessati a diventare i nostri potenziali clienti e successivamente dei clienti soddisfatti, cioè la soddisfazione sta in prima. Detiniamo il profilo del nostro cliente, qui appunto, e qui ci vengono incontro tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Cosa significa? Abbiamo Facebook con i suoi profili, ci dà tutte le informazioni dei clienti, quindi, o dei profili, quindi tutte le informazioni di interesse, quindi massima attenzione. Andiamo a profilare il nostro cliente, lo andiamo a disegnare. Alcuni importanti strumenti a proposito sono il blog, che più che uno strumento è proprio la base dell'inbound marketing, dove rappresenta il miglior modo per affinare nuovi visitatori nel sito. Se noi pubblichiamo dei contenuti interessanti, qualitativamente alti e differenti dagli altri, un utente è interessato a frequentare il nostro blog e a seguirci. I social media. Utilizzando i social media, qui dobbiamo andare a diffondere proprio i migliori contenuti e le informazioni di valore, altrimenti non siamo nessuno. Al fine di coinvolgere appunto l'interesse di nuovi potenziali clienti. Molto importante, e questo l'avete visto anche con Barbara, è l'interazione nelle reti sociali. Fate attenzione a quanti condividono il vostro post ai commenti positivi e negativi, perché è vero che il commento positivo ci gratifica, ma anche quello negativo ci aiuta a crescere. Quindi, al pari esuto. Le parole chiave. Le parole chiave, specialmente nel mio settore di Google Analytics, è l'elemento fondamentale, ovvero è la partenza della ricerca. L'utente va sul motore di ricerca, inserisce delle determinate parole chiave, che l'abbiamo visto anche con i vari esempi, e a quel punto vuole andare a soddisfare una necessità. Qui entra nelle parole chiave un aspetto tecnico che il sito deve contenere, quello che spesso si parla anche di SEO, è andare a strutturare il sito con le parole chiave più vicine alla ricerca dell'utente. Ci aiuta a farci trovare, perché ovviamente l'obiettivo è farci trovare. Cioè, sì, abbiamo visto contenuti di qualità, ma l'importante è esserci sul web e soprattutto essere visibili. Le pagine web devono essere ottimizzate per renderle sempre più predisposte alla comunicazione con l'utente. Quindi deve essere in grado di comunicare al profilo ideale del vostro cliente. Fai diventare il tuo sito un punto di riferimento con contenuti utili in grado di attirare la curiosità e l'interesse e leggere tutte le pagine, le news che postiamo da parte dei visitatori che ci interessano addirittura quelli sconosciuti. Come li andiamo a avventare? Tramite appunto l'utilizzo di parole chiave mirate che ci permettono di avere una visibilità all'interno di internet molto più alta rispetto ad altri competitor. Quindi non ci interessa generare qualsiasi genere di traffico. Noi non dobbiamo portare al nostro sito internet il traffico, dobbiamo portare gli utenti di qualità, gli utenti che sono realmente interessati ai nostri prodotti e servizi. Quindi come facciamo a capire chi sono gli utenti più interessati, i visitatori migliori del nostro sito. Pensiamo al nostro cliente ideale e quale obiettivo aziendale abbiamo e andiamo a profilare il punto. Convertire ovviamente una volta che noi abbiamo attirato nelle nostre pagine, nel nostro sito, nel nostro blog l'utente va convertito. Deve diventare, deve andare a fare un'azione. deve diventare qualcosa di più. Ecco che ci siamo, tra virgolette, inventati le call to action. Dobbiamo farlo, visto che non è un utente che sta lì e che prende il messaggio standard che noi stiamo trasmettendo, ma che vuole fare qualcosa. Quindi lo invitiamo ad un'azione. Guarda, iscriviti alla nostra newsletter, se ti trovi in un momento di informazione scarica il nostro manuale. Questo dobbiamo andare a capire. Allora, l'utente nostro si trova in un momento di informazione. Ok. Allora la call to action è a scaricare un manuale sull'inbound marketing. Ovviamente gli diciamo qualcosa, ma noi gli diciamo tutto. Ma abbiamo attirato e convertito il nostro utente. L'ending page efficaci. Cosa significa? Sto ricercando qualcosa, devo mandarlo sulla pagina del sito pertinente. Se io sto cercando, non so, l'acquisto della scarpa oppure sto ricercando la prenotazione di un ristorante, la landing page sarà sicuramente la pagina di atterraggio e la prenotazione, il modulo di prenotazione di un ristorante di un'attività. Dobbiamo, nel più breve tempo possibile, soddisfare il bisogno della persona che ci ha ricercati. Schede dati. Ovviamente una volta che noi abbiamo tutte queste informazioni che abbiamo preso tramite le call to action, eccetera, dobbiamo andare a creare delle schede dati. Che significa? Che il visitatore deve compilare una scheda di richiesta di informazioni. Questo lo facciamo tutti i giorni per poter accedere a un servizio e ci richiedono minimo nome, cognome e indirizzo mail. Qui vi dico di fare attenzione perché non chiediamo troppe cose al nostro utente in un primo momento. Lo impastidiamo. Tanti nostri clienti sono venuti da noi con dei moduli di contatto dove per fare una cosa carina hanno richiesto la data di nascita. così al suo compleanno mandiamo la promozione. No, non funziona. Non funziona per lo meno in un primo momento. Funziona probabilmente nella fase del deliziato. Perché l'utente che ancora non ci conosce non ci vuole lasciare tutte queste informazioni. Quindi nella compilazione dei dati, dati essenziali che ci permettono di ricontattare l'utente e basta. Quello lo facciamo successivamente. I contatti ovviamente dobbiamo tenere traccia di tutti i contatti che sono entrati tramite il processo di conversione. Qui ci sono le conversioni in Google, Aliborz, ci sono tanti strumenti che ci permettono di capire se il nostro utente è entrato da Facebook, da Aliborz o da altri strumenti e l'abbiamo all'interno dell'azienda a profilare. Dobbiamo capire quali sono e analizzare i nostri risultati. Chiudere e quindi qui deve diventare il nostro cliente perché ci ha lasciato il contatto ed è interessato alle nostre pagine, ha compilato il modulo di contatto. Ora dobbiamo andare a chiudere, a farlo convertire e farlo diventare il nostro cliente. Come lo facciamo? Allora, valutazione del potenziale. Cosa significa? Avete ricevuto dai contatti potenziali nel vostro sistema, quindi quando compilato le forme di contatto. Ora però come andiamo a stabilire quale contatto è arrivato al punto di interesse per parlare con un commerciale? Quindi lo capiamo dalla tipologia di informazioni che rilascia sotto l'esterno il testo bianco. In base a cosa chiedono riusciamo già a capire cosa e a che punto del contatto è arrivato. E-mail marketing, un utente che si è registrato, si è registrato per caricare un'informazione, si è registrato perché sta richiedendo l'informazione, se noi lo compoliamo con e-mail marketing, quindi con una mail mirata a soddisfare il suo bisogno, quindi non so, se ci ha richiesto una disponibilità possiamo rispondere con una mail specifica per dare la migliore offerta. Se ha scaricato un nostro manuale probabilmente possiamo dirti quali sono gli altri manuali che abbiamo a disposizione e ci sono tanti altri esempi. Poi c'è l'automazione del marketing, quindi questo è personalizzare, io parlo proprio di messaggi pubblicitari, di pubblicità, l'andiamo a personalizzare. Come facciamo? Altrimenti sembra un lavoro enorme, ci sono degli strumenti che ci permettono di fare questo. Ho visto un determinato prodotto, lo ripropongo a quell'utente in un determinato contesto e qui anche Google e qui ci aiuta con i messaggi di remarketing. Alla fine dobbiamo ovviamente analizzare tutto quello che abbiamo visto. Cosa significa? Non dobbiamo lasciare tutto al caso. Abbiamo fatto un profilo del nostro utente, abbiamo mandato una mail, ora ci mettiamo un attimo ad analizzare tutte le tipologie di cliente, le modalità con cui sono entrati, cosa hanno richiesto e ci permettono internamente di essere efficaci, quindi di muoverci, di fare delle scelte aziendali mirate. Deliziare. Deliziare cosa significa? Nell'inbound marketing è fornire, come abbiamo detto, fornire contenuti di qualità per gli utenti, sia che si tratta di visitatori. Noi non dobbiamo discriminare chi è un visitatore da chi può essere un cliente. All'inizio sono tutti potenziali contatti. Quindi sia visitati i visitatori di potenziali contatti o di clienti attivi, non dobbiamo dimenticarci dei clienti che hanno scelto la nostra azienda. Quindi l'abbiamo fatto tanto per farli diventare dei clienti, adesso andiamoli a, appunto, ho voluto utilizzare questo termine, deliziare. Come lo facciamo? Con gli smart call to action, che significano offerte proprio che cambiano in base alla persona. Io offro a te in base al tuo profilo, alle tue esigenze, agli interessi che hai manifestato. Lo faccio tramite i social media, quindi utilizzando i social possiamo fornire dei servizi di supporto in tempo reale. Mi richiedo di informazione, mi fai una richiesta e ti rispondo immediatamente. Ovviamente per fare questo bisogna essere strutturati o avere delle persone che vi seguono costantemente. Ed infine, come dicevo anche prima Massimo, sono ritornati tanto dei newsletter e dei marketing proprio perché noi siamo in grado di dare, di fornire delle informazioni personalizzate, delle proposte che possono essere commerciali oppure informative al nostro cliente. Ormai l'abbiamo profilato, dobbiamo andare con lui, da lui con delle informazioni mirate e lo facciamo anche tramite l'email marketing perché fa sempre più piacere. Ecco, come questa slide racchiude tutti gli strumenti della nuova metodologia dell'inbound marketing e questa metodologia dimostra che l'inbound marketing non arriva per caso. Sei tu che la fai, qui c'è massimo all'azienda che attiva, quindi non è massima attenzione a tutte queste fasi. Tutto questo si fa utilizzando gli strumenti perché ne abbiamo veramente tanti e tutte le applicazioni che ti aiutano a creare e distribuire contenuti in grado di attirare le persone giuste, quindi creare il profilo dell'acquirente ideale nel posto giusto, quindi tramite i canali giusti, la comunicazione giusta, al momento giusto, che significa nel momento in cui dobbiamo soddisfare quel bisogno. Quindi il consiglio che vi do, utilizzando ovviamente tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per avere tutte queste informazioni, non è così assurdo averle perché il profilo Facebook dove noi mettiamo già tutte le nostre mi piace, le nostre informazioni ci fanno capire molto. C'è Google Analytics, ci sono le statistiche dei vari strumenti che utilizziamo, quindi abbiamo molti strumenti a disposizione. Quindi ecco appunto il consiglio è di andare a casa, di prendere la parte tecnologica, di cominciare a capire qual è la strategia che uno vuole intraprendere e iniziare a capire a chi si vuole rivolgere, come parla l'utente a cui ci vogliamo rivolgere, in che situazione si trova e a quel punto riusciamo a ideare un messaggio personalizzato e un messaggio ad hoc per il nostro utente finale. Grazie a tutti. Per questo slide per chi non fosse interessato, per qualsiasi chiamamento, possono fare la domanda. Allora ringraziamo anche gli amici dell'Istituto Pannaggio che alle 12.40 avete il pulmone, il bus quindi noi vi ringraziamo per avervi dato qualcosa in più quindi questo vi fa piacere allora io vi consiglio da un po' abbiamo finito però se ci sono qualche domanda o qualcosa io ho già avuto le domande e ce l'ho quindi iniziate a preparare e vi cartace però mentre pensate alle domande io ho subito la parola a Teresa Natali che presenta il progetto ho visto che ha il microfono vicino a lei quindi poi andiamo con le domande in commercio da tre anni stiamo sviluppando un progetto in collaborazione con Google come lavoriamo? con le giovani laureate e la terza annonita e quest'anno abbiamo con noi Paolo e Andrea e io vorrei dare subito la parola a loro perché ci racconta una cosa che stiamo facendo come sistema camerale per promuovere e animare l'utilizzo dei sociali allora sì praticamente noi da giugno per una durata di nove mesi che è la durata del progetto abbiamo come missione che è come missione del proprio progettuale quella di digitalizzare le piccole e medie imprese del territorio Medini di ricerca è un progetto nazionale quest'anno arriva alla stessa edizione è partito molto molto in piccolo rispetto ad oggi ha avuto successo nel tempo oggi vede la partecipazione di 64 camere di commercio e per ognuna delle quali ci sono due ragazzi due digitalizzatori appunto che per la singola provincia operano appunto sul territorio con l'obiettivo appunto di divulgare dimostrare le potenzialità alle piccole e medie imprese del digitale quello che il digitale il valore che il digitale può offrire loro quindi in concreto cosa facciamo noi noi agiamo secondo due modalità essenzialmente una modalità di tramite incontri diciamo one to one quindi incontri diretti con le aziende vediamo insomma quali che sono gli obiettivi delle singole aziende diciamo loro quale potrebbe essere la strategia migliore la strategia più adeguata per raggiungere quegli obiettivi ovviamente a specificare noi non ci sostituiamo i tradizionali operatori della comunicazione quindi agenzie di comunicazione piuttosto che freelance di web professionisti eccetera quello che facciamo noi è piuttosto una sorta di filtro quindi una sorta di abbiamo uno scopo più culturale quindi di far capire loro i benefici e il potenziale appunto delle tecnologie del web per la promozione la vendita e la gestione della corretta presenza online questo è un tipo di percorso poi un secondo tipo che inizierà a 6 maggio si tratterà invece di un incontro collettivo con tutti coloro che vorranno partecipare aperto a tutti al contrario incontri one to one che invece si focalizzano su diciamo sulle peculiarità del nostro territorio a livello di settori quindi quello enogoro alimentare e quello tessere della diametra piazzaturiero e questo ciclo di incontri sarà un ciclo appunto pensiamo di otto incontri con carenza di settimanale che tratteranno tutte quelle che sono le principali tematiche legate al marketing digitale quindi dallo sviluppo del piano di web marketing quindi a fare da cappello un po' tutto il discorso fino ad affrontare i singoli strumenti con cui poi mettere in pratica la strategia pensata e pianificata con il piano di web marketing finora abbiamo raggiunto un buon numero di adessioni abbiamo raggiunto una cinquantina di aziende tra tutti e due settori e è ovviamente un progetto gratuito per le aziende che possono appunto godere di questa possibilità fino alla fine di aprile e i primi di maggio insomma quando è la screnza del progetto poi se vi interessano maggiori le informazioni siamo sul sito della Camera di Commercio c'è uno spazio dedicato a noi allora semplicemente io volevo con Andrea quello che stiamo cercando di fare è di portare l'innovazione quindi portare l'innovazione per quanto riguarda il digitale e riteniamo divulgatori dell'innovazione digitale e anche i ragazzi che per questo resto stanno andando via però voi siete innovatori per natura siete innovatori per il vostro essere e invece per chi è meno giovane chi è meno giovane soprattutto se è in un mercato se è un business deve cercare di essere il più aperto possibile all'innovazione e se no in un mercato non si sopravviva se ci troviamo i concorrenti che si innovano e diventano sempre più bravi se noi rimaniamo a non so se noi rimaniamo a cucinare per esempio con strumenti obsoleti non diventiamo bravi con gli altri e quindi il nostro ruolo è anche importante capire quali sono queste resistenze all'innovazione che ci troviamo di fronte e ne abbiamo qualche diverse per cui ho fatto una top 5 5 frasi che mi sono state realmente lettera imprenditori e anche altri conoscenti riguardo digitale per esempio la prima il mio collega ha un Mac quindi ha fatto il sito più bello questo è interessante perché anche loro hanno un Mac e anche un Mac però non ho acquisito nessuna confidenza grafica photoshop da wallet questa è una convinzione diciamo un po' falsata un'altra frase ad esempio ho fatto l'e-commerce ma non ho venduto niente ci sono diverse aziende che hanno provato che hanno fatto l'e-commerce ma non ho venduto niente perché perché non hanno pensato alla promozione dell'e-commerce cioè hanno fatto tutta la struttura però non hanno pensato come promuoverla è chiaro che non si vende niente un'altra frase poco fa abbiamo fatto il sito per il mercatino delle eccellenze della Camera del Commercio che si è svolto ieri e avanti ieri e ci servivano le foto delle imprese che venivano e un'impresa mi ha detto oggi non posso mandare le foto per il sito lo faccio domani perché oggi devo lavorare quindi c'è una discrepanza tra il fatto che la comunicazione e la promozione del proprio business non sia lavoro cioè la promozione del mio business sa e lavora a tutti gli effetti anzi è fondamentata un'altra cosa interessante che ci hanno detto il vino non si può vendere online invece secondo noi il vino si può vendere online e come e si perché il vino bisogna assaggiarlo quindi quindi lo vendi solo a chi già conosce il prodotto se è online puoi intrecciare chi già conosce il prodotto ci sono di moda e quindi poi un'altra cosa il prezzo del mio vino cotto non lo metto sul sito perché io il prodotto lo devo raccontare ma il prodotto si può anche raccontare online con un video con un video un vero come ho visto prima con un blog che è un'altra cosa per la propria storia e oltre a questo però chiaramente ci sono imprese virtuose che invece sono aperte all'innovazione e quindi ci sono aziende che fanno più del 50% del fatturato online ci sono aziende che da quando è nato internet hanno un sito e lo aggiornano costantemente aziende che vendono all'estero per la telecommerce e quindi queste aziende sono aperte all'innovazione e fanno vedere un po' ad esempio a tutti gli altri grazie proprio allora mentre il nostro norcino sta preparandoci un po' il 15 buffet con prodotti tipici per poi salutarci allora qualche domanda prego di veri se vuoi comunicare con il professionale devi utilizzare un'immagine professionale mentre stai lavorando e quindi nel posto di lavoro mentre sei operativa se invece vuoi un profilo più piacione più no? mi sembra che sei oltre tu diciamo a me cioè mentre tu vuoi il pastello io ho una testa a scrivere il figlio va bene ma se vuoi anche il profilo troppo ma anche il paciente me lo parliamo diciamo beh troppo spesso no però per le stagioni sicuramente cioè non è indicato avere un'immagine di profilo estiva che stai a lavorare quando sei contenta comunque è stagionale ma poi puoi cambiare con i due due termini e poi è quella che non è successo è tanto di una missione di like io farei un contaggio di telespettatori che e ma è c'è anche di stagionale Grazie. 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 Grazie.